Ciao a tutti, buongiorno, per chi non mi conoscesse, io sono Donata e oggi siamo nel mio laboratorio Top Cake e le torte di Dona. Oggi insieme prepareremo i Donuts, un dolce tipico americano, noi lo faremo fritto fritto fritto. Quindi qui sopra io ho già preparato tutti gli ingredienti che adesso piano piano ve li mostro. Allora, 200 g di farina 00, 200 g di farina manitoba, poi abbiamo 200 ml di latte a temperatura ambiente, altrimenti scaldato leggermente al microonde, quindi non deve essere freddo da frigorifero, poi 10 g di lievito di birra, 50 g di zucchero semolato e 50 g di burro a temperatura ambiente e un uovo. Ci serve per preparare questi Donuts una planetaria con il gancio, che ci servirà poi per impastare i Donuts. Quindi la prima cosa che andremo a fare è questa. Versiamo nel baule della planetaria il latte insieme allo zucchero e facciamo iniziare a sciogliere il lievito di birra. E facciamo piano piano sciogliere. Piano piano mescolare prima una farina e poi mettiamo anche l'altra. Dopo aver incorporato le due farine, praticamente aggiungiamo l'uovo e poi iniziamo ad azionare la planetaria. Dopo aver incorporato l'uovo mettiamo il burro, quindi scoppiamo un attimo la planetaria, aggiungiamo il burro e li facciamo partire la planetaria. Adesso aggiungiamo per 10 minuti a velocità media e la facciamo impastare. Adesso trasferiamo il nostro composto dietro a una ciotola imburrata, la copriamo con la pellicola e la facciamo riposare per due ore. E' così qua, siamo ritornati dopo le nostre due ore di lievitazione, quindi adesso trasferiamo il nostro composto sul piano da lavoro. Lo stendiamo per un centimetro più o meno. Io poi nel frattempo mi sono fatta dei pezzettini di carta da forno dove poi andremo a mettere le nostre ciambelline. e utilizzo questo cutter con il buco per fare la ciambella. Le vado a posizionare due tagliere e le vado a coprire per farle lievitare un'altra ora. Quindi adesso me le posiziono tutte qui e le lascio riposare e poi tra un'ora le andiamo a friggere. E' così qua. E adesso una volta che avete fritto le vostre ciambelle potete glassarle con cioccolato bianco colorato o cioccolato normale fondente o a latte a vostro piacimento. Poi io ho decorato con cioccolato bianco e perline e dei corallini. Ecco, i donuts sono pronti. se vi è piaciuto il mio video iscrivetevi al mio canale attivate la campanella per non perdere nessun video alla prossima e condividete i video mi raccomando